Impresa City incontra Roberto Patano, Senior Manager Systems Engineering di NetApp Italia. Virtualizzazione, cloud computing, crescita esponenziale dei dati, sono tutti fenomeni che impattano sullo storage. Quali secondo NetApp le sfide che questa componente dell'infrastruttura deve affrontare oggi? Io vorrei ribaltare un po' il concetto e quindi prenderlo da un altro punto di vista. Quali sono le conseguenze possibili se in realtà sono andato a fare una scelta storage diversa e non corretta? Partendo da questo presupposto NetApp si focalizza su tre punti fondamentali. Una è proprio la continuità del business, quindi il poter far crescere la mia infrastruttura in termini di performance piuttosto che in termini di capacità senza mai fermare il mio business. Il secondo punto è quello dell'efficienza e il terzo punto è quello dell'integrazione applicativa, quindi una vicinanza del business necessaria in un ambiente evolutivo come questo. Quale strategia propone NetApp le aziende che intendono modernizzare lo storage o adottare uno storage moderno? Qui è fondamentale capire che lo storage non deve essere più considerato come un centro di costo, quindi è fondamentale che si parta da questo tipo, questa parte dell'infrastruttura che è fondamentale per l'azienda perché lì risiedono i miei dati e capire come andare a sfruttare al meglio. Questo è possibile grazie all'integrazione che io posso avere e all'avvicinanza verso il business, quindi io devo percepire lo storage come un facilitatore, un enabler verso le mie nuove attività. Vediamo in concreto quali sono i prodotti e le soluzioni che NetApp mette in campo in ambito storage che rispondono a queste istanze tecnologiche e alle necessità delle aziende. Sono diverse, partirei innanzitutto dal nostro sistema operativo e dall'evoluzione, da quello appena annunciato, quindi la versione di cluster ed on-tap del nostro data on-tap. Data on-tap è il sistema operativo primo al mondo proprio in ambito storage. Parto da qui perché le novità introdotte vanno proprio nell'ottica di fornire una nuova funzionalità, una nuova versione, uno storage del futuro, in ambito proprio di scalabilità, di performance e di capacità. E questo è un punto fondamentale, tanto da far pensare che NetApp sia più un'azienda di software che un'azienda di storage. Il secondo punto sono le nostre soluzioni che portiamo sul mercato. Una fra tutti la parte di virtualizzazione, quindi la virtualizzazione non più pensata solo a livello di server, ma anche a livello di storage. La possibilità di andare a riutilizzare asset che sono in casa, magari anche della concorrenza, per un ritorno degli investimenti ancora più ampio. La terza è tutta la parte di funzionalità legata all'efficienza, quindi riuscire effettivamente a utilizzare le risorse storage in termini di quanti dati io riesco a mantenere, ma soprattutto in termini di deduplica, di compressione, l'efficienza vera, il poter comprare la quantità di spazio che effettivamente ho bisogno senza fare over-provisioning. Quali le frontiere innovative dello storage a cui guarda NetApp? Sono diverse. Una sicuramente, come dicevamo, è il continuo sviluppo del nostro sistema operativo, del nostro software e quindi l'evoluzione che è proprio in futuro, nell'ottica anche dell'evoluzione che stanno avendo i data center in ambito cloud, quindi il poter utilizzare i vantaggi del nostro sistema operativo, del nostro storage, non solo in termini di cloud privato, ma per esempio anche in termini di cloud pubblico, di cloud ibrido, quindi un'unica piattaforma che possa essere utilizzata da tutti i nostri clienti. In secondo luogo, sicuramente le nuove tecnologie che sono ad oggi disponibili, per esempio tutta la parte di flash, di flash memory, di dischi a stato solido, ma non nell'ottica di introdurre per forza l'ultima tecnologia disponibile come fosse una corsa, ma nell'ottica di capire come questa tecnologia, utilizzata al meglio grazie al nostro sistema operativo, possa portare dei veri vantaggi al business. Grazie a tutti.